Come cambia un'abitudine? Ok, come cambia un'abitudine? Al primo punto c'è la consapevolezza. Che cos'è la dissonanza cognitiva? Dissonante vuol dire in disaccordo con qualcosa. Cognitivo è riguardo al pensiero. L'uomo in modo naturale cerca l'assonanza, cioè l'essere d'accordo con quanto lo circonda o le persone che lo circondano. Proprio perché cerca l'assonanza, se qualcosa è troppo dissonante da lui, l'uomo tende ad allontanarsene. Il fenomeno affascinante è che quando invece l'uomo trova vicino a sé qualcosa che è solo leggermente dissonante da come lui e di fronte a questa situazione in numerose occasioni tende a ridefinire l'immagine che ha di se stesso per rendersi assonante a quella situazione. Uno dei due influenzerà quell'altro, o in negativo o in positivo. Quindi la dissonanza cognitiva ha questa caratteristica. Cambia le persone, nel bene o nel male. Come lo possiamo usare noi come imprenditore? Sicuramente nella selezione, ricordiamocelo. Inserire persone di qualità superiore aumenta il livello di performance di un'attività, nelle vendite, nella gestione organizzativa, nel clima aziendale. persone che sorridono positive. Siamo abituati a pensare che le persone brave non esistono. Bene. Devi frequentare persone che invece hanno inserito nella loro azienda persone brave. È l'unico modo che è per cambiare idea. Un altro modo che è per cambiare l'abitudine è un violento shock. Prima devo smettere un'abitudine e dopo trovare una nuova abitudine. Trovare una nuova abitudine costruttiva che concorre all'ottenimento del risultato. Quindi se vuoi diventare più bravo, prima smetti e poi risolvi. Se invece noi siamo tutti portati a cercare di risolvere un problema, no, prima smetti, poi risolvi. Prima smetti l'abitudine e poi ritrovi un'altra. Il lavoro dell'imprenditore è questo. Più cambia il mondo, più devi essere veloce a fare questo passaggio. E quindi il fatto di sapere che cosa devo cambiare diventa fondamentale. Come fai a sapere se adesso stai andando bene? Dai risultati. Qualsiasi abitudine viene creata così, da un primo passo. Gli strumenti esistono. Gli strumenti ci sono. Ok? Hai modo di autoanalizzarti, autovalutarti. Ce ne sono tanti di sistemi. Ma possono... Ne puoi fare talmente tanti. di test, di cose. Ma alla fine quello che conta è ma tu vuoi cambiarla a quell'abitudine o no?